Senta, Presidente, le viene in mente invece che Matteo Renzi sia più adatto delle forze che rappresenta lei a governare un Paese in cui il governo è conteso da Salvini e Di Maio. È un quarantenne, ha una chiave di lettura dei fatti magari più fresca, più adeguata ai tempi. Senta, Floris, ma che bello questa intervista, vorrei collocarla nel nostro tempo. Renzi ha già governato il Paese, ha governato il Paese per un periodo abbastanza lungo e ha impiegato otto mesi a fare una riforma costituzionale sbagliata, confusa, che è stata spazzata via dal voto popolare. Ha impiegato cinque mesi a fare una legge elettorale, l'ha imposta, con tre voti di fiducia, sbagliata, confusa, che è stata cancellata dalla Corte Costituzionale. La riforma della scuola gliel'hanno bocciata agli insegnanti e il Jobs Act ha prodotto attraverso i voucher talmente tanto precariato che hanno dovuto cambiarlo loro stessi. Quindi, voglio dire, purtroppo l'esperienza di governo di Renzi è stata un'esperienza non positiva. E allora le dico un'altra cosa. E questo è la spiegazione anche del perché è passato da 1.890.000 a 1.200.000. E come è la democrazia? Quando uno va, è provato, e non va bene, perde voti.